I freni frenavano, i freni frenavano, e poi mi hanno detto che si sta facendo il cuore. No, tu bisogna vedere perché magari è successo un bordello. Che ne fai? Magari hai sbagliato tu. Hai sbagliato tu nel caso del... Dio, vabbè, 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 vabbè. Che non è voluto dire in garanziano. Io voglio sapere che ho fatto un bordello io, ma oppure è stato... Non lo so, non lo so. Gli devi dare la pastiglia al disco. Gli hanno detto che non deve andare forte, ma lui andava forte, non ci siamo. La ripianza. Oh, io gli avevo detto di andare piano e non incidare perché quando ti cambi le pastiglie al disco, devi andare piano, che si deve fare la pasta all'interno e mi girano anche i coglioni. Poi, boh, scusa di storia. Voi fare un vifaretto a sem furios con la macchina... cioè, no, non c'è... No, vaffanculo, poi quando... Non ti faccio ridere, perché oggi c'è la stessa cosa. Io gli ho detto di andare piano, gli porti. Grazie, Sca, che sei seduto sul divano. Ha preso male! Ha preso male! eeeh 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 la maschera di un po' è stato con cura di un po' a me non è piaciuto per niente è per un po' è stato per l'invento di un po'